numero 26 con il numero 2 Gianluca il capitano il capitano numero 6 Salvatore numero 11 Cristian Marzo numero 5 Guagnarella numero 23 Guagnarella numero 8 Guagnarella numero 17 Marzo numero 27 Fabio Guagnarella con il numero 22 Esegna Faneci che si che si che si Big gu ав E ora per la prima competizione in una partita ufficiale accogliamo la strada Saffaro con l'applauso il numero 7 del mercatore! Saffaro con l'applauso il numero 7 del mercatore!